Le occasioni mancate diventano reimpianti e basta una frazione di secondo per cambiare il corso naturale delle cose. Nella vita bisogna cadere, bisogna rialzarsi, nella vita bisogna ballare. Scusami, ma è quella colezza un po' movimentata. I suoi studi sono il peccato di l'emparagio motivata, dove per cui gli offrirei un contatto di un mese. Signora, devo consigliare? No, no, non mi serve niente, grazie. La ragazza lì ha proprio cambiato la vita. Non vedo mai quella roba. Rilassati, so io ora cosa ci vorrebbe per distendere un po' i nervi. Forse ci sarebbe una possibilità. Ma stai scherzando, spero. Ho gestito questo posto per anni. Mi mancherà starci lontano. Che cosa? Ma, ma margherita, ma tu dove gli hai detto che lavori? Io sono una parrucchiera, tu lavori in una concessionaria e ci siamo conosciuti al corso in latino. Eccola, è lei mia madre. Scusa se sto cucinando per te, eh? Fino a prova contraria, io favo il tuo stesso affitto. Ah, ecco la mia coppietta preferita. Qui può fare che se vuole, se... Eccola.